Aperto le porte il villaggio di Babbo Natale, il sogno del Natale alla regia di Venaria. Molti bambini che quest'oggi hanno portato la loro letterina a Babbo Natale hanno potuto visionare il laboratorio, la casa degli elfi, il collidoglio degli antenati, l'ufficio postale dove invucare la loro cartolina e soprattutto poter fare un giro dove è ricoverata la slitta che il 24 notte Babbo Natale utilizzerà. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.